Trovarmi qui dal giorno alla notte per una cosa che mi hanno attribuito ingiustamente senza aver fatto niente di tutto ciò mi uccide dentro, Alessio Lopasso scrive alla ex fidanzata una lettra dal carcere dove è detenuto dallo scorso L'ex tronista dovrà scontare una condanna in via definitiva tre anni poiché accusato di estorsione ai danni di un chirurgo estetico Secondo il giudice, il fatto è avvenuto nel 2014 Ma lui non ci sta Di seguito il testo della lettera, diffuso dal talk pomeridiano di Canale 5 Pomeriggio 5 Leggere le tue parole mi ha riempito il cuore in questo momento per me orribile Trovarmi qui dal giorno alla notte per una cosa che mi hanno attribuito ingiustamente senza aver fatto niente di tutto ciò mi uccide dentro Non sappiamo come siano andate le cose, sai che persona sono, mi sembra di sognare Credimi, non augurerei il carcere nemmeno al mio peggior nemico Se riesci a recuperare tutti i documenti relativi all'intervento, mi faresti un enorme favore Gli allocati si stanno muovendo per tirarmi fuori da qui Poi non appena sarò libero prenderò io in mano la situazione Mi ha sputtanato questo dottore Non oso immaginare le voci che si sentiranno in giro sul mio corpo, più di tutto mi spiace per mia mamma Come dici tu, sono forte, ma qui dentro, in celle di due metri quadri siamo in tre, io buttato per terra come un criminale, senza coperte, dove ti giri giri solo sbabe, ignoro Anche il più forte qui dentro croi Sai per colpa di chi sono qui, per colpa di chi il nostro rapporto si è rovinuto Senza quella brutta persona a tale palle non sarei qui e forse tra me e te non sarebbe finita in quel modo Abbraccio forte te e i bambini, vi porterò sempre in un angolo del mio cuore Spero di rivedervi presto Spero di rivedervi presto Grazie a tutti